Ciao ragazzi, rieccoci. Allora, la partita è finita ormai da un bel po', quasi da un'ora e mezzo, diciamo forse anche due ore. Diciamo che io mi sono sbagliato questa sera, alla fine il Napoli non ha perso, anche se sul commento, quello lì che avevo fatto in diretta dei 4 minuti aggiuntivi dove parlavo delle telefonate di Lotito, in quel momento proprio avevo scritto sul commento che aveva segnato Close. Infatti la Lazio ha avuto delle occasioni clamorose nel primo tempo, il Napoli era partita molto aggressivo nei primi 10 minuti, però dopo la Lazio è venuto fuori, ha fatto il gol con Close, poi Close aveva preso prima del gol un palo, poi aveva avuto un'altra occasione con un salvataggio quasi sulla linea del difensore del Napoli e quindi il Napoli si è mangiato delle occasioni clamorose e dato che si era mangiato quest'occasione clamorose nel primo tempo è finito 1-0 per la Lazio, però per il secondo tempo non mi sembrava che il Napoli potesse pareggiare la partita. Diciamo che il Napoli è giocato molto sporco, molto sporco, perché alcuni giocatori del Napoli hanno fatto interventi molto 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 pericolosi e alcuni anche al limite si erano diciamo tutti da giallo, però se trovi un arbitro più severo ti può dare anche il rosso. Fali da dietro molto brutti e diciamo che su un'azione non è stato dato il vantaggio alla Lazio colpevolmente, però bisogna dire che D'Amato ha arbitrato un'ottima partita, ha arbitrato bene, qualche fallo non l'ha fischiato, però alcune sveste ci possono stare. Comunque andiamo al gol del Napoli. Grande lancio, non mi ricordo di chi, non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di The Guzman, mi sembra, non mi ricordo comunque. Grande lancio per Iguain che scarti il portiere, poi Iguain tira, il tiro diventa un passaggio, c'è Gabbiadini dietro e fa gollo, un gol fortunoso, molto fortunoso, che però fa capire che la Lazio in quell'azione non dovevano salire così tanto perché non ce n'era bisogno, invece sono saliti tanto, sono saliti molto e hanno lasciato Iguain solo lì e poi hanno fatto gol anche fortunoso, però il Napoli è sempre molto pericoloso se gli fai fare il gioco, se gli fai fare le azioni. Comunque bisogna dire che Goulam prima aveva preso anche una traversa, quindi dopo la partita si incattivita molto, come vi ho detto, gli interventi erano stati molto brutti. L'unica conclusione che c'era stata prima del gol del Napoli era il miracolo di Berisha su Gabbiadini che poco dopo segnerà dove Gabbiadini aveva fatto un tiro che non sembrava irresistibile, c'era stata però una direzione e Berisha aveva fatto un miracolo, veramente un miracolo e poi dopo ha fatto gol il Napoli. Dopo la partita principalmente è stata molto cattiva, falle a centro campo, ma di tiri non ce ne sono stati altri, solo una bella botta di close dove però Andukar l'ha messa in calcio d'angolo perché aveva tirato molto forte e close però molto centrale. Quindi ragazzi 1-1, quindi per il Napoli questa è una vittoria perché 1-1 il Napoli va benissimo però mai dire mai e adesso domani sera c'è la Juve, domani sera c'è la Juve e ovviamente farò il commento pre partita, domani sera farò il commento pre partita perché Juve Fiorentina è una partita bella, importante e farò il commento pre partita e poi farò anche il commento dopo la partita. Quindi ragazzi va bene, ci vediamo domani sera, complimenti comunque alla Lazio e al Napoli che sono due belle squadre e hanno fatto una bella partita questa sera, tutte e due, complimenti comunque per chiunque uscirà. A domani ragazzi, e sempre forse a Juve. Ciao!